6, 9 nel nostro caso, 12, 14 persone. Ma tu sai benissimo che il parterre, le competenze, le qualità personali presenti dentro una città come la nostra di 120.000 persone sono tantissime. E per una persona che scegli, per una persona che inviti a collaborare con te, ce ne sono almeno 3 o 4 di grande valore. E questo, se volete, è l'altro elemento, visto che ho usato prima una parola semplice, uso la stessa parola, se volete può essere l'altro elemento di dispiacere. Per un sì che dici, per un invito che fai alla collaborazione, ci sono 3, 4, 5 non inviti che devi esercitare.